Ciao a tutti ragazzi, benvenuto in questo nuovo video, sono finite le partite dell'ore 15 in Serie A poche sorprese, forse le favorite hanno sempre e hanno ottenuto queste vittorie molto molto importanti stiamo parlando della vittoria della Fiorentina che torna al successo dopo tantissimo tempo non vinceva dal 30 di settembre nel derby contro l'Empoli per 3-1 un sesino in rimonta poi ne parleremo poi del successo del Sassuolo in trasferta contro il Frosinone molto molto importante perché in ottica Europa si parla veramente di un successo veramente molto importante per la classifica e poi infine il successo sempre molto molto importante in ottica Europa in zona Europa per la Sampdoria che batte nello scontro diretto che valeva un posto nelle zone alte della classifica il Parma di D'Aversa 2-0, parliamo subito di questa partita, forse la più attesa del pomeriggio in Serie A è assegnato ancora lui, Fabio Quagliarella, ragazzi segna ogni partita 9 gol stagionale in 16 presenze, un bomber veramente che non finisce mai di segnare nuove pagine di sport nuove pagine di questo grandissimo calciatore che segna veramente come fosse un bomber giovane lui continua continua a segnare ogni domenica e oggi è anche un grande gol un grande gol perché è un gol di grandissimo equilibrio, colpo di testa e dopo un grandissimo cross del suo compagno di squadra 2-0 che è nato anche dal gol iniziale di Pratt che ha aperto questa partita nel secondo tempo, una partita chiusa la Sampdoria ha avuto sicuramente il palino del gioco dall'inizio della partita poi però i due geni incompresi di questa Sampdoria la sbloccano grazie a Pratt e poi al gol di sé del solito bomber, Fabio Quagliarella andiamo invece a parlare della Parma, una partita sicuramente non preparata come sono scesi in campo i Ducali una sconfitta che ci può stare comunque nel campo del Ferraris perché comunque è sempre stato un campo molto molto difficile il Palma comunque sta facendo un campionato clamoroso lo stesso anche se questa domenica è andata male parliamo invece della vittoria importante della Fiorentina con grande, grandissimo protagonista finalmente, sì stiamo parlando di lui, Simeone è tornato a essere protagonista della Fiorentina in positivo adesso speriamo basta fischi a Simeone perché veramente ne abbiamo sentito i drop in questo inizio di stagione oggi gol e assist per il Ciolito è un gol veramente importante, un colpo di testa su cross di Biraghi e poi l'assist che aveva fatto il momentaneo pareggio per la Fiorentina con il gol di Miraias nel primo tempo ma la partita del derby toscano è stata aperta dal gol di Krunic nel primo tempo l'Empoli era nato in vantaggio prima sconfitta per Mister Iachini da quando siede nella panchina dell'Empoli però comunque nel finale il grandissimo gol di Dabo che chiude la partita su 3-1 per la Viola che vince questa partita, torna la vittoria e era veramente sofferta perché mancava dal 30 di settembre invece prima sconfitta del momento dell'Empoli ma ci può stare dopo un grandissimo filotto di risultati inutili consecutivi per la squadra toscana parliamo invece di questa ultima partita quella che si è giocata a Frosinone, tra Frosinone e Sassuolo successo importante per la squadra di De Zerbi arrivato grazie ai gol prima dell'autodol di Ariaudo sulla grandissima azione di Duncan e poi nella ripresa Domenico Berardi anche lui un giocatore ritrovato forse è la domenica dei giocatori ritrovati da Simeone anche a finire a Berardi e quindi veramente un grande gol finalmente anche Domenico Berardi i suoi classici gol a giro nel secondo palo grande Domenico Berardi per il Frosinone si sa veramente poco forse Cioffri nel primo tempo è un'occasione la paese è stata veramente dominata da Sassuolo ed è giusto che Sassuolo abbia portato a casa 3 punti meritati una grande prestazione per la squadra di De Zerbi che adesso veramente vola in classifica sta pensando veramente alle zone alte 24 punti in classifica per il Sassuolo sta facendo veramente un signor campionato ragazzi per questa reazione è tutto io vi aspetto alle 20 per Cagliari-Napoli grandissima partita Napoli veramente ha l'occasione per acconciare di nuovo sulla Juventus e invece segnaliamo anche i finali dalla Premier fine della Premier il Chelsea ha battuto il Brighton 2-1 in trasferta invece è successo clamoroso del Southampton contro l'Arsenal per la 3-2 molto molto importante in chiave salvezza dalla Serie B invece vittoria importante in chiave salvezza per il Carpi contro la Serie A per 3-2 partita veramente emozionante tra 0 Carpi poi la Serie A per la rimonta però non è riuscita fino alla fine è riuscita a 3-2 per il Carpi padrone di casa e poi il pareggio tra Clutone e Venezia 1-1 quindi ragazzi per questo video è tutto io vi ringrazio per attenzione lasciate tantissimi like iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook e Instagram ciao a tutti ragazzi a dopo